Comunque un secondo video oggi per mostrarvi i swatch degli ultimi acquisti che ho fatto con i saldi da Kiko e vi mostro la swatch del blush della Daringame che è il 03 Rosewood & Azalea che ha un packaging spettacolare come vi avevo già fatto vedere e i rossetti che ho acquistato invece sono i Lucious Cream due colorazioni abbastanza nude e naturali e il 502 e il 507 in più vi faccio gli swatch anche dei long lasting della Daringame che ho acquistato che sono questi qui il numero 10 e il numero 8 partiamo allora partiamo con swatchare il blush che è questo qui molto bello e partiamo con lo swatch della prima colorazione e della seconda mi dispiacerà che si cancellerà il disegnino ma adesso col dito faccio un po' fatica vabbè queste sono le colorazioni uno è brillantinato e l'altro è un po' diciamo un pochino più opaco se mettesse a fuoco sì eccolo qui bellissimi blush era da collezione questo quindi non potevo non prenderlo poi per il prezzo che era in sconto ok ora passiamo i rossetti lucius cream che sono quelli idratanti e questa cosa insomma mi incuriosiva allora zero no partiamo col 502 packaging a scatto questo qui lo swatcho qui è un bellissimo colore davvero bellissimo sta mettendo a fuoco sì 502 lucius cream bello 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 poi c'è il 507 che è più tendente al pesca eccolo qui cioè guardate che colore necessitavo di colori naturali e quindi ho deciso di acquistarli poi passiamo ai long lasting ecco e questi da togliere sono tremendi quando sono asciutti allora questo è il numero eh no il 10 sì 10 che è quello che ho fatto il trucco l'altro giorno ed è questo qui bellissimo e poi abbiamo l'8 sto bellissimo anche come illuminante eccolo qui adoro questi matitoni io non ho molti long lasting ne ho pochi però per applicarci sopra l'ombretto mi sembrano ottimi quindi quindi di solito io mi do semplicemente l'ombretto col primer sotto ma stavolta ho provato a truccarmi con i matitoni e poi l'ombretto anche minerale quindi acquisti veramente azzeccatissimi 3 euro i matitoni sconto cioè veramente le colorazioni sono tutte bellissime e niente ragazzi spero che il video delle tonalità vi sia stato utile un bacione al prossimo video ciao